Ciao, sono Adri, benvenuto a casa mia. È molto importante imparare a degustare i vini con tutti i sensi, con la vista, l'olfatto e il gusto. Partiamo dal colore. Ci sono varie tonalità di colori nei vini bianchi. E' molto utile per capire bene i colori e anche il confronto tra i vini. Se noti, questi due colori sono ben diversi. Uno è giallo verdolino, questo qui giallo paglierino con riflessi verdolini, questo è giallo dorato. Ma oltre alla definizione del colore di un vino, ti ho detto che il vino ci dà altre informazioni su di sé. Questo vino sicuramente non ha fatto legno e ti spiegherò perché. Guarda invece che colore più carico ha questo vino. È un vino che io potrei definire giallo paglierino con riflessi dorati o già anche giallo dorato. Che cosa dà il colore dorato a un vino? Potrebbe essere una surmaturazione delle uve oppure un vino così può avere fatto botte. Andiamo a immaginare invece che cosa ci può dire questo vino. Questo vino è un vino dai riflessi ambarati. È tipico di uve che hanno subito un appassimento anche dopo essere state vendemmiate. Io posso fornirti la tecnica per degustare qualsiasi vino, anche quelli non ancora inventati. Nel link qui sotto potrai avere accesso direttamente al corso che ho preparato per te. A presto e buona degustazione! A presto e buona attenzione!